Dopo le interrogazioni dei consiglieri di minoranza Mario Pesca e Giuseppina Botticchio al sindaco nell'ultimo consiglio comunale di venerdì scorso, si è passati all'approvazione dei verbali della seduta precedente. Il quarto punto all'ordine del giorno ha ricevuto l'approvazione, ovvero la rinegoziazione del mutuo in essere tra Intesa San Paolo S.p.A. e il comune di Agropoli per effetto dell'atto di assegnazione di beni del 29 marzo 2016. Bocciata invece la proposta del consigliere Agostino Abate sull'approvazione del regolamento per il funzionamento del centro sociale polivalente, votato invece quello proposto dai consiglieri Salvatore Coppola, Eleonoro Di Nardo e Gianluigi Verrone. Al punto 7 sì alla modifica del regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera numero 45 del 14 luglio 2020 e il regolamento delle rateizzazioni approvato con deliberazione 74 del 27 ottobre 2017. Approvato poi il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, il regolamento corpo di polizia municipale, il regolamento di polizia urbana, l'approvazione del regolamento speciale per l'armamento del corpo di polizia municipale, ancora approvata l'adozione di aggiornamento del regolamento comunale per l'assegnazione di contributi economici, benefici e patrocinio della città di Agropoli, settore cultura e turismo. Infine approvato anche il nuovo regolamento per la gestione e l'assegnazione degli spazi aquei ai fini di ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione dal comune di Agropoli. Grazie a tutti.